IRISBUS cessa l'attività, CISL è inaccettabile, manovra, side la camera alla fiducia. Vertense, gol del Lady, due le manifestazioni di interesse. Un saluto a tutti e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG CISL. Vertense IRISBUS in primo piano chiude lo stabilimento di Valle Ufita in provincia di Avellino. Sono circa 1.200 i posti di lavoro tra diretti ed indotto che andranno persi in un territorio già ad altissimo tasso di disoccupazione. Lo ha stabilito la Fiat dopo la rinuncia del gruppo DR all'acquisto della fabbrica di autobus. Il governo convoghi subito un tavolo, sollecita il leader CISL Raffaele Bonanni, per trovare una soluzione che garantisca i lavoratori e la permanenza del sito. La CISL, continua Bonanni, ritiene che sia arrivato il momento di aprire una discussione tra governo e parti sociali sui trasporti pubblici locali per affrontare il tema dell'efficienza, degli sprechi e la tutela dei lavoratori. Ma sentiamo cosa ne pensa anche Luigi Sbarra, segretario confederale CISL. La decisione della Fiat di cessare l'attività industriale produttiva nello stabilimento Iris Busse di Avellino è sbagliata. Noi chiediamo al governo, sollecitato già da giorni a produrre un confronto a Palazzo Chigi per trovare soluzioni all'avvertenza, di convocare urgentemente l'azienda, il sindacato e chiediamo alla Fiat di sospendere ogni procedura di cessazione dell'attività. Non possiamo consentire che l'unico stabilimento di produzione di autobus in Italia che ha alle spalle un know-how e che ha competenze di eccellenza per quanto riguarda le professionalità può essere definitivamente smantellato. Lavorano 700 persone direttamente che con l'indotto diventano 1.200 in un'area ad alto tasso di disoccupazione che non offre alternative di sviluppo. Il governo quindi prende in mano l'avvertenza, esercita una forte pressione sulla Fiat perché il confronto deve ripartire per trovare valide e solide soluzioni industriali che garantiscono i livelli di occupazione. Grande preoccupazione anche naturalmente da parte della Cisle Campania che afferma che Iris Busse non si tocca. Il segretario della Cisle Campania, Lina Lucci, sentiamo. Per noi della Campania l'atteggiamento del governo è incomprensibile e siamo soprattutto preoccupati per questo clima di responsabilizzazione e di confusione che ha generato proprio l'assenza di un'azione più incisiva che doveva esercitare il governo. Quindi va recuperata subito questo incontro ufficiale che avevamo già chiesto da tempo e soprattutto in vista del fatto che stiamo parlando di un settore, quello della mobilità, che ha ancora una grande domanda. Iris Busse deve necessariamente tornare ad essere al centro dell'agenda della politica del governo anche alla luce del lavoro che siamo riusciti a fare in Campania con le istituzioni. Il governatore della Campania, Caldoro, ha aperto ad una discussione sui fondi FAS e mi sembra che su questo il governo non abbia detto nulla. Quindi ci aspettiamo veramente un'azione di grande responsabilità ma immediata soprattutto. Ed ora la manovra finanziaria. Con 316 sì, 302 no, il governo ha attenuto la fiducia della Camera. Il via libera finale è atteso per questa sera. Il provvedimento dopo il disco verde di Montecitorio e la firma del capo dello Stato sarà legge. La CISL ha criticato aspramente la manovra manifestando il suo dissenso con numerosi presidi che si sono tenuti in tutta Italia. Come ha ribadito stamattina il segretario confederale, Fulvio Giacomassi, a Mattina CISL. Abbiamo criticato questa manovra, abbiamo sollevato i punti che secondo noi andavano modificati. In ogni caso è bene che venga approvata, altrimenti avremo una reazione dei mercati particolarmente complicata. E poi quello che noi diciamo è continuare a intervenire per stabilizzare il bilancio dello Stato e il debito pubblico. Continuare dove? Sul versante dell'evasione fiscale, dove il nostro intervento ha contribuito a cambiare le posizioni anche del governo. Intervenire sul versante ancora in modo più incisivo sui costi della struttura dello Stato, quelli che noi chiamiamo i costi della politica, e poi immaginare e pensare ovviamente anche a una strutturazione più moderna, anche della tassazione sui patrimoni, sui grandi patrimoni. Questo ci porterebbe ad avere a disposizione risorse che abbattono il debito e possiamo poi fare quello che noi diciamo da diversi mesi, che è appunto alleviare la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese e immettere un po' di risorse sulla crescita. Ma torniamo alle vertenze, sempre più concreta l'ipotesi di smantellamento degli storici stabilimenti di Calze, Conland e la Golden Lady. Ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, azienda, sindacati e istituzioni, si sono confrontati sulle nuove prospettive per il sito di Gissi in provincia di Chieti e per i 280 lavoratori attualmente in cassa integrazione. Due, le manifestazioni di interesse presentate. Ci dà maggiori particolari Sergio Spiller, segretario generale aggiunto Femca Cisle. L'incontro che c'è stato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico riguarda lo stabilimento della Golden Lady di Gissi in Abruzzo. Per questo stabilimento l'azienda ha già annunciato l'intenzione di cessare l'attività legata ai processi di riorganizzazione complessiva, legati alla caduta dei volumi che ci sono stati nel corso degli ultimi anni e che hanno portato già alla decisione della chiusura del sito di Faenza. Da mesi tutte le parti hanno concordato che bisogna cercare una soluzione occupazionale che permetta di salvaguardare i lavoratori. Per questo è stato nominato un advisor e ieri l'incontro è stato per avere il primo confronto sul lavoro che è stato fatto. C'è stato comunicato che ci sono state due dichiarazioni di interesse che sembrano interessanti e che verranno visionate nel corso dei prossimi 30 giorni per vedere se si possono tramutare in una proposta concreta di rioccupazione per un numero consistente anche se non comprensivo di tutti i lavoratori interessati. Ed ora una notizia aggiunta da poco qui in redazione. Sono state rinvenute a Siracusa scritte contro la CISL sui muri di uno stabile adiacente alla sede sindacale. Oltre alle scritte contro il sindacato era presente sul muro, disegnata con vernice rossa, una stella a cinque punte. Sul posto è subito intervenuta la Digos che ora sta svolgendo le indagini. Naturalmente vi daremo conto di eventuali sviluppi nei prossimi giorni. E ora cambiamo decisamente argomento. Domani al via la settima edizione del Labor Film Festival, la rassegna di cinema e lavoro promossa da CISL e Acli Lombardia con il Cinemateatro Rondinella di Sesto San Giovanni. La manifestazione, una delle più importanti e rinomate del suo genere in Italia, si concluderà il 6 ottobre. Ce ne parla Gigi Petteni, segretario generale della CISL Lombardia. Sentiamo. Domani sera riparte questa iniziativa cinematografica organizzata dalla CISL Lombardia. Un'iniziativa che ci teniamo molto, che offre un'occasione di confronto alle persone su temi del lavoro, su temi del sociale. Riteniamo che questo tema in particolare, questo del lavoro, sia stato un tema che in tutti questi anni, nel mondo della cultura, nel mondo cinematografico, sia stato molto sottovalutato. Per cui vogliamo portare un'attenzione attorno a questi temi attraverso anche a queste immagini, a queste occasioni di confronto per far crescere una consapevolezza e una volontà nuova in questa direzione, mettendo in campo anche tanti giovani che si stanno sperimentando, facendo alcune esperienze in questo campo. E anche per fare in modo che non ci sia solo una cultura del lavoro, ma possano essere espresse al meglio l'insieme delle culture sociali del lavoro. È un'occasione su cui ci crediamo e vogliamo continuare a spenderci. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Continuate a seguire gli aggiornamenti sul sito di conquistadelavoro.it Se volete potete scriverci alla casella labor tv chiocciolacisl.it L'appuntamento con l'informazione è per domani con mattina CISL alle 10 e con il TG come di consueto alle ore 18. Grazie per averci seguito, una buona serata. Noi CISL Più punti, più premi, più sconti Sei un iscritto CISL? Richiedi la carta CISL e vai nelle migliaia di esercizi convenzionati. Su ogni acquisto accumulerai punti con cui ottenere sconti e premi in buona in spesa. Ecco come funziona. Tu fai i tuoi acquisti in contanti o con Bancomat o carta di credito. Al momento di pagare consegni la carta CISL sulla quale vengono automaticamente accreditati i punti corrispondenti alla spesa. Vuoi accumulare punti nei tuoi negozi preferiti? Segnalaceli compilando il modulo che trovi sul sito noicisl.it Ecco alcuni buoni motivi per aderire. Solo se hai carta CISL accumuli punti in migliaia di esercizi in tutta Italia ottieni sconti e premi importanti puoi utilizzare i tuoi premi come buoni pasto o per fare shopping. Per maggiori informazioni visita il sito noicisl.it e tornacui.it Grazie a tutti.